buon pomeriggio a tutti a voi ragazzi io sono world b23 sono di noi in forma so quello che devo dire stavolta non farò errori allora il ponte è già pronto già la notifica era arrivata mentre registravo l'era glaciale il villaggio ovviamente e quindi cosa faremo vi dirò siccome il ponte è riparato andiamo là poi se faccio in tempo facciamo il nuovo era glaciale 5 cordo che sarebbe ora il tredicesimo episodio come sapete c'è stato però sono stato felice perché in quell'isola mi pare che non avevo aperto le vongole non so che cosa avevo fatto non lo so però sono felice raga di questo buona visione per il video usate ragazzi per colpa di questo tempo una volta fa caldo e fa freddo uno si ammazza grazie a tutti Grazie. Grazie. No, raga, per un pelo. Questa è fortuna, raga. Questa è per completare l'evento, bella mossa. Non ci credo, raga. Siamo fortunati con una marea di gettoni. Ovviamente nella descrizione troverete ma non di ghiande. Vediamo. No, niente. Andiamo prima nelle acque scintillanti. Andiamo a riparare il ponte. Un uccellino verde e poi lo raccogliamo più tardi. Cento piante. Ovviamente Cresce costato cinquanta. Invece Eddie costa cento. È un furto. Sono fratelli Cresce Eddie. Un uccellino verde. 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 oh 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 no raga non ho tutto mi mangono dei corni a meno che li recupero 30 ghiande ma è un furto dovrebbe costare di meno raccogliamo tutte le bacche già abbiamo riempito il contenuto abbiamo preso un altro progetto e manco due per sbloccare e troppi nooo magari era il gettone e che vi devo dire raga è andata purtroppo così una ghiandala infatti siamo a 45 per ottenere il ghiander gratis dovete scavare sotto la neve guardiamo anche qua un po' Oh, buono. Niente. 19 minuti ragazzi. Ok ragazzi, come posso aiutarti? Ah certo. 20 se ho tutte ovviamente la paglia. Poi 10 se arrivo a 5 però l'hanno aumentato. Rudy non ti preoccupare che arriverò un giorno all'altro e ti distruggerò. Ah, quando è l'habitato tedesco? Ah, quando è l'habitato tedesco? Ancora 9 ore ragazzi. Ancora 9 ore ragazzi. A presto. Prima. Prima. I need more blueprints to repair this. Maybe I should check for the clam cells. Oh, they always know what to do. I need more blueprints to get rid of the clam cells. What's the mama dinosaur? I need more blueprints to get rid of the clam cells. I can sort of see something. I can sort of see something. I can only eat one, raga. Devo arrivare assolutamente nel primo traguardo raga Let's go E recuperare gli oggetti De nuovo amico Look out Awesome Run little guy Run Mi manca solo la due Aspetto un altro corno Giusto Mi manca un altro corno raga Un altro corno E un pezzo di palla Manca solo un pezzo di palla raga Devo trovare Una colana Vediamo Niente raga Però abbiamo vinto delle ghiande E siamo al terzo posto Raga Ve lo sto dicendo Se fra otto ore sono ancora al terzo posto Vincerò dieci ghiande E sapete che vuol dire Ovviamente con 5 Ovviamente si arriva Ne ho 47 5 Poi altri 5 Arrivo a 67 ghiande Quasi 70 Quasi 70 Quasi 70 Quasi 70 No Due minuti Due minuti Qua 25 Non è cambiato nulla Quasi Burgos O Quasi 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 Grazie. Raga, un pezzo di neve. E già siamo a 48. Ti devi di mezzo. Grazie. Quella ha solo bacche, contiene 48 ghiande. Grazie. Grazie. Maia. Non c'è uno. La palla. Ragazzi, sono diventato rudi. 41 amici, eh raga. Quasi che completo il trofeo. L'antapirato, raga. Niente antapirato. Raga, un'altra ghianda. Ti devi di mezzo, castoro. Grazie. La neve mi fa trovare le ghiande. Quasi 50, raga. Manca poco. Proviamo, raga. L'ho raccolta la paglia, raga. Voi non l'avete visto. Cosa è questo? Lo immaginavate, raga. Tre ghiande sono 30 ghiande. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta, raga. Aspettate. Ecco, è partito. No, 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 no. Vabbè, vincerò 5 ghiande. Sembra meglio di niente. Però andiamo subito qui e sblocchiamo il ponte, raga. Subito. Qua. Ottimo. Due ore. È riparato il ponte, d'accordo, ragazzi. E direi che il video si può congodere qui. Torniamo a casa e ci salutiamo. Bene, ragazzi. Speriamo tanto che questo video dell'era glaciante le avventure, ovviamente, il tredicesimo episodio. Una fortuna di gettoni. E completiamo l'evento della fortuna dei gettoni. Suona bene. Se è piaciuto iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, mettete un bel like mi raccomando. Ci vediamo in un prossimo video. Bella rega a tutti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.